Dai Edo, è ora alzati, dai. Buongiorno. 6 di mattina, l'ora in cui mio padre mi sveglia per andare a scuola. Che sono le 6 di mattina, ma di mattina che soffia il vento. Mi alzo, pronta ad affrontare un'altra giornata di scuola. Vado in bagno e mi vesto. Vado in cucina e faccio colazione, con dei semplici biscotti. Nel mentre sto un po' con il telefono, vedo tutti i miei social e leggo i messaggi che mi sono arrivati su Whatsapp. Finita la colazione, vado subito a lavarmi i denti e finisco di sistemarmi. Mi metto un po' di crema in faccia. Un po' di profumo e poi torno nella mia camera per indossare qualche accessorio. Orologio, collano, eccetera, tutte cose che a me piacciono molto. Controllo se nello zaino manca qualcosa ed eventualmente aggiungo quello che manca. Esco di casa e vado alla stazione. Entro sul treno, mi metto seduto e aspetto la partenza. Il treno parte alle 6.56. La città ancora dorme, ma io già sto in viaggio. E voi invece, qual è la vostra mattinata quando andate a scuola?